Sdame! No, quello dovevo mangiarlo oggi! Dame, ferma Sdame! 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 Bravo Rame, continua così! Sdame! 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 sta nevicando ma che... tu... tu sei... santa girl, esatto oh cavolo usa questa ok ma che... ok, trasformiamoci ma che... ma che... ma che... ma che... che succede? che succede? oh no, un bidone nella spazzatura e che cavolo dannazione come è usato perciarmi? oh no oh no oh no stanno attacca dove? bel lavoro... sdame 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 o cavolo e quello cos'è? sdame 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 mi serve il tuo aiuto oh no, dame vai adesso dame oh 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 ok ci penso io oh 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 No, 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 no!